Purtroppo per il ballo di Diano termina alla striscia di giorni senza nessun nuovo caso di coronavirus registrato che andava avanti dal 19 aprile. Nella serata di ieri accertata la positività del tampone di una ragazza di Sant'Arsenio che, come tutti gli ultimi contagiati del territorio valdianese, era già in quarantena da tempo per aver avuto contatti con un soggetto positivo al covid-19. Quindi la situazione non preoccupa. Ottavo contagio per il paese di Sant'Arsenio mentre il bilancio del valdiano ora è di 152 casi con 16 decessi. Dista a una settimana esatta invece l'ultimo contagio registrato nel Cilento, dopo solo guarigioni e tamponi negativi, ad Agropoli si attende un solo ultimo tampone relativo ad uno dei contatti della paziente oncologica che però, come dichiarato dal sindaco Coppola, è stato fatto per precauzione e su un contatto non facente parte di quelli stretti. A ballo della Lucania, sulla via della guarigione, il ragazzo vallese ricoverato nel reparto covid del San Luca. Un primo tampone di conferma del suo pieno recupero dal coronavirus si è rilevato negativo, ora si attende il secondo. Negativo anche il secondo tampone verrà dichiarato guarito e dimesso dal presidio ospedaliero vallese, nel quale sono ricoverati altri tre casi di covid-19, due di Agropoli e uno di San Mauro la Bruca e anche loro vicini alla guarigione. Il bilancio cilentano non cambia, resta 23 contagi ad Agropoli, compresi tre decessi e tre guarigioni, quattro a Ballo della Lucania, tre a Casalvelino, due a Vibonati, uno a Sessa Cilento, uno a Laurino, uno a San Mauro la Bruca e Monte Corice.